Il teatro delle favole del Masini anche quest'estate sarà ospitato all'Arena Borghesi. Visto il perdurare del cantiere in Piazzanenni, gli spettacoli per ragazzi e famiglie saliranno sul palco di Viale dello Stradone. Storie che parleranno di ecologie, esplorazione, supervento delle paure e del lavoro di squadra. Fiabe che hanno attraversato i secoli e racconti originali. Biglietti a 5 euro per tutti, gratuiti fino a 3 anni. In caso di maltempo, gli spettacoli andranno in scena al Masini. Il teatro della favola si svolge quest'anno come l'anno scorso all'Arena Borghesi dove c'è un bellissimo palcoscenico e saranno sei appuntamenti il mercoledì sera a partire dal 26 giugno fino al 31 luglio. Il teatro ragazzi a Faenza ha una tradizione. E' senza soluzione di continuità l'estate, l'inverno e anche la mattina per le scuole. Pensiamo l'anno prossimo di ritornare in questa bellissima piazza, però noi il teatro ragazzi continuiamo a farlo comunque, grazie alla collaborazione col comune, con tutte le organizzazioni che gestiscono l'Arena Borghesi, il Raggio Verde e così via. E quindi quest'anno come l'anno scorso saremo all'Arena Borghesi. Sei appuntamenti col miglior teatro ragazzi italiano, alcune sono nostre produzioni perché noi siamo un centro di produzione e la presenza di un centro di produzione fa la differenza rispetto a chi organizza semplicemente una rassegna con delle ospitalità.